buongiorno buongiorno pronto pronto ale buongiorno la cellanetto vestito da elfo guardate quanto è bello manuel oggi cioè lui è sempre bello però oggi è molto bello guardatelo c'è proprio bello oggi e niente noi stiamo andando illuminati ed immenso alevi con i mercatini dove stiamo andando ale ai mercatini col cubo giustato ma che gioia ciao piccolo elfo buongiorno io spero di non spaventarvi si sono in lavanderia perché sono venuto ad attaccare lavatrici stirare fare tutte cose e praticamente ieri non ho più filmato niente perché mi sono morti sia il telefono che la telecamera e la batteria era piena sì che io credo dipende dal fatto che era abbastanza freddo comunque guardate qua sto facendo pulizie di pasqua e sto svuotando ovunque adesso questa è la prima stanza finita ho pulito dappertutto con vaporelle quant'altro anche la lavatrice e infatti adesso mi perde acqua quindi spero di non aver fatto danni ora proviamo forse avevo messo troppo detersivo e niente devo preparare la cucina devo allora in ordine stiro le cose uscite dall'asciugatrice accendo l'asciugatrice con le cose dei bimbi e vado su a sistemare la cucina sì e vi faccio vedere anche il mio bombolotto cosa c'è cosa c'è ti viene da ridere ti scappa da ridere perché vuoi la mamma qua ma la mamma c'è da fare mangiato hai mangiato fatto la cacca e fatto la cacca abbiamo pulito tutto si è tutto profumato impomattato cosa c'è cosa c'è con quella manina lì dimmi dimmi cosa c'è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti